Ben ritrovati su Sicilia 24, nuova edizione di Spazio Notizia che apriamo con il caso della bambina rapita a tre mestieri etneo è stata una notte di ricerca per le forze dell'ordine ma facciamo il punto della situazione nel nostro servizio. È stata una notte di raccolta di prove, verifiche e ricerche per i carabinieri e la procura di Catania impegnati nell'inchiesta sul sequestro di Elena, la bambina di 5 anni rapita ieri mentre era in auto con la madre a piano di tre mestieri etneo. Ai militari dell'arma della tenenza di Mascaluccia, paese dove vive, la donna ha raccontato, disperata e in lacrime, che stava rientrando a casa dopo avere preso la figlia all'asilo quando tre persone incappucciate e una armata di pistola hanno aperto la portiera della sua vettura prelevando e portando via Elena. Una ricostruzione che è stata più volte analizzata dagli investigatori per trovare elementi utili alle indagini, che sono ovviamente serrate perché il fattore tempo in un sequestro di persona è fondamentale per risolvere il caso. Ecco perché non si sono fermate, ancora adesso i carabinieri stanno sentendo persone che potrebbero avere particolari utili a una svolta. Per procura e carabinieri il sequestro resta ancora un giallo, escludono la mano della criminalità organizzata e che sia collegato a una richiesta di riscatto e quindi guardano a ogni ipotesi. I genitori che sembra non siano al momento conviventi e i familiari della piccola sono stati sentiti nuovamente dai militari dell'arma. Un'ipotesi, anche se in forma molto dubitativa, l'avanzata ieri sera il sindaco di Mascaluccia, Enzo Magra, mi sono messo a disposizione dei carabinieri, ha dichiarato, per aiutare le ricerche anche tramite la protezione civile, i volontari, ma mi è stato riferito che non si tratta di smarrimento o di fuga, ma di altro, probabilmente, di dinamiche familiari. Questa dunque è la situazione, ovviamente seguiremo questa vicenda e vi daremo tutti gli aggiornamenti nel caso chiaramente ci fossero nel corso delle prossime edizioni di Spazio Notizie. Intanto andiamo avanti, continuiamo a parlare di cronaca, ci spostiamo adesso virtualmente a Biancavilla, dunque restiamo nel Catanese. I carabinieri della sezione di Biancavilla hanno denunciato per i reati di lesioni e minacce in concorso due giovani diciottenni di Santa Maria di Licodia, presunti responsabili del ferimento di un minore di 17 anni avvenuto in quello stesso centro cittadino la sera di sabato 4 giugno. La lite, maturata per motivi sentimentali e iniziata con uno scambio di messaggi, è un appuntamento chiarificatore che è degenerato in una aggressione da parte dei due maggiorenni nei confronti del minore. Quest'ultimo ferito è stato visitato dai medici dell'ospedale Maria Santissima Dolorata di Biancavilla dove è stato giudicato guaribile con cinque giorni di prognosi. Il grave quadro indiziario così emerso, supportato da concreti elementi di riscontro acquisiti all'esito delle attività investigative e dell'ascolto della vittima originaria di Biancavilla in una fase procedimentale comunque caratterizzata dalla non integrazione del contraddittorio dalle parti, ha permesso ai carabinieri di Biancavilla di identificare i due maggiorenni denunciandoli all'autorità giudiziaria. Ed ora a Palermo invece per parlare di una importante operazione antimafia colpo alla famiglia al mandamento palermitano di Santa Maria di Gesù 24 gli arresti. Vediamo il servizio. I carabinieri del ROS con il supporto dei militari del comando provinciale di Palermo, del nucleo carabinieri cinofili e del nucleo elicotteri hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della locale DDA a carico di 24 soggetti, 21 dei quali destinatari della custodia cautelare in carcere e 3 degli arresti domiciliari, ritenuti a vario titolo gravemente indiziati di associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, rapina e trasferimento fraudolento di valori. Le indagini hanno consentito di acquisire un grave compendio indiziario relativo agli attuali assetti associativi delle famiglie di Villa Grazia e Santa Maria di Gesù che compongono lo storico mandamento protagonista delle più importanti vicende di Cosa Nostra Palermitana all'ipotizzato contributo di alcuni imprenditori attivi nel settore della distribuzione alimentare e dei giochi e scommesse che avrebbero messo a disposizione del sodalizio le proprie attività imprenditoriali contribuendo in tal modo alla realizzazione del programma criminoso e favorendo l'organizzazione nella commissione di delitti contro l'incolumità individuale, la libertà personale e il patrimonio. All'ipotizzato sostentamento assicurato dagli uomini d'onore in libertà ai sodali detenuti e ai loro familiari, disvelando al contempo gravi indizi in ordine all'avvenuta commissione di diversi reati finalizzati alla raccolta del denaro necessario a tale scopo, al controllo del territorio di propria competenza, al ricorso all'attività estorsiva, all'ipotizzato per attività di una parallela struttura associativa che gestiva il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere cittadino della guadagna. Con riferimento poi ai reati contestati ad alcuni degli indagati, avvalendosi della loro condizione di appartenenti all'associazione mafiosa, sono stati acquisiti e giudicati dal GIP gravi indizi in ordine alla progettata attività estorsiva in danno di un'impresa edile impegnata in lavori nel territorio di Santa Maria di Gesù, ma con sedia a Villa Grazia, vicenda che ha messo in evidenza i legami tra gli uomini d'onore delle due articolazioni territoriali mafiose e le relative interlocuzioni necessarie a definire la richiesta, all'imposizione di una fornitura di bevande ai titolari di una sala ricevimenti, alla consumazione di una rapina ai danni di un rappresentante di orologi, al cosiddetto cavallo di ritorno con riferimento alla restituzione di un'autovettura rubata al congiunto di un soggetto ritenuto appartenente alla famiglia mafiosa di Palermo Centro, all'ipotizzata ingerenza nelle fasi organizzative, gestionali ed esecutive di una festa rionale, attività chiaramente volte alla ricerca del consenso nel cui contesto sarebbe stato richiesto denaro ai commercianti solo in parte destinato a coprire le spese. Diversi nuclei familiari dei soggetti interessati dalla misura sono risultati per settori del reddito di cittadinanza. Ed ora le elezioni amministrative partendo da Messina dove ha stravinto Federico Basile, abbiamo portato avanti un progetto di continuità con quello che è stato fatto dalla precedente amministrazione, ha dichiarato e questo ci ha premiato. Ringrazio anche Prima l'Italia e Nino Germanà per aver creduto nel nostro progetto. Ringrazio i messinesi che con il 46% mi hanno fatto vincere al primo turno dopo mesi di campagna elettorale estenuante e facendo capire alla vecchia politica che quello che conta sono gli interessi di Messina e dei messinesi. Non contano le segreterie nascoste della vecchia politica ma la volontà dei cittadini. Questo è il primo passo verso la rivoluzione che ci porterà a governare la regione. A proposito di Messina e di elezioni regionali ha parlato anche Cateno De Luca dopo la vittoria di Basile, lui che appoggiava proprio Basile. Questa, ha dichiarato De Luca, era stata interpretata dai nostri avversari come una competizione contro di me. Hanno perso e noi abbiamo vinto al primo turno. Ora tocca alla regione. Il nostro progetto si è già affermato nell'immaginario collettivo. Musumeci è finito, ha dichiarato Cateno De Luca. E da Messina ci spostiamo a Palermo, dove invece ha vinto in modo piuttosto netto il candidato di centrodestra Roberto Lagalla, la prima cosa da fare, ha detto, è deporre una corona di fiori per le vittime di mafia. L'ex rettore ha poi ringraziato gli elettori che hanno deciso di assegnarmi il ruolo di sindaco per il quinquennio a Palermo, dice. C'è da segnalare la grande astensione che lascia pensare. Cominceremo dall'insediamento assieme alla coalizione e a tutto il consiglio comunale di maggioranza e opposizione a lavorare per la città. Ha funzionato il buon senso e il valore della coesione del centrodestra, ha giunto Lagalla, che è stato trovato seppur con difficoltà. E io comunque avrei fatto una battaglia testimoniale. Confido che il centrodestra mantenga la stessa sintesi e la stessa ragionevolezza anche per le regionali. e qui potrebbe verificarsi qualche problema. Basta vedere le parole recentissime di Gianfranco Miciche che a proposito della possibile candidatura di Nello Musumeci alla presidenza della regione siciliana ha detto no senza alcun dubbio. Queste dunque le parole del leader di Forza Italia in Sicilia che ha risposto alle domande dei giornalisti proprio sull'eventuale candidatura di Musumeci. Per Miciche i due elementi politici di questa tornata amministrativa sono il risultato del candidato di Cateno De Luca Messina, che supera addirittura il 50%, superando di netto le due coalizioni di centrodestra e centrosinistra, e quello di Fabrizio Ferrandelli a Palermo. Ferrandelli dice Miciche per me da oggi è un soggetto politico con cui bisogna dialogare, perché si tratta di voti suoi, non certo di calenda. E tornando per un attimo, anzi restando a Palermo, andiamo a vedere le parole di Franco Miceli, lui candidato sindaco per il centrosinistra, uscito chiaramente sconfitto da questa tornata elettorale. Il distacco è visibile, ha detto Miceli, sono le elezioni più contestate della storia della città di Palermo. Abbiamo avuto elementi che ci dicono che si dovrebbe cambiare la legge elettorale. Sono state elezioni controverse, avremo il sindaco meno votato della storia, ha vinto l'astensionismo. Queste le parole di Franco Miceli. A Palermo ovviamente si continua anche a parlare del caos avvenuto il giorno delle elezioni, con numerosi presidenti che quasi all'ultimo hanno dato forfè molti di loro, pare, per andare a vedere la partita del Palermo. Ma la questione è chiaramente apertissima, perché adesso bisogna individuare i responsabili. E sono oltre 200 le persone segnalate alla procura di Palermo. I magistrati, coordinati dal procuratore aggiunto Sergio De Montis, hanno aperto un'inchiesta per accertare la legittimità o meno delle rinunce agli incarichi, molte delle quali sarebbero arrivate a poche ore dal voto. I reati ipotizzati sono l'interruzione di pubblico servizio, il rifiuto di atti d'ufficio e la violazione di una legge elettorale del 1960. La coincidenza del voto per le comunali con quello per il referendum determina la necessità per gli inquirenti di comprendere quale sia la norma applicabile. E sono state delle elezioni piuttosto turbolente a Palermo, sia anche alla vigilia nei giorni precedenti con gli arresti di due candidati al Consiglio Comunale per il centrodestra, Pietro Cuolizi per Forza Italia e Lombardo per Fratelli d'Italia. Ci sono novità a proposito di Lombardo, perché è stato fissato per oggi l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Palermo. Interverranno sia Francesco Lombardo ma anche il boss Vincenzo Vella, mafioso di Brancaccio che è stato arrestato insieme allo stesso Lombardo con l'accusa di scambio elettorale politico mafioso. Come detto questo arresto è arrivato qualche giorno dopo quello del candidato consigliere per Forza Italia Pietro Polizzi e del costruttore mafioso Agostino Sansone. Polizzi e Sansone hanno risposto nei giorni scorsi al GIP negando l'esistenza di un patto elettorale, dunque vedremo invece cosa diranno Lombardo e Vella. E adesso invece il Covid andiamo a vedere i dati dell'ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute, quindi dati che si riferiscono chiaramente alla giornata di ieri. 757 nuovi casi di Covid registrati in Sicilia a fronte di 6.378 tamponi, tasso di positività al 12% e Sicilia al quinto posto in Italia per numero di nuovi contagi. Gli attuali positivi sono 62.875, i guariti invece 926, mentre si registrano altre 6 vittime e il conto totale dei decessi dall'inizio della pandemia in Sicilia sale così a 11.061. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 581,16 in più rispetto al giorno precedente, mentre in terapia intensiva ci sono al momento 26 persone, due in meno rispetto al giorno prima. Chiudiamo con i dati a livello provinciale, Catania stavolta è la provincia con il maggior numero di nuovi casi, 391, poi Palermo con 256, quindi Agrigento con 89 nuovi casi di Covid e poi le altre province con dati molto più bassi. Quindi lo ribadiamo, questo è l'ultimo bollettino ma si riferisce a ieri, poi in serata quando il Ministero della Salute fornirà i dati aggiornati, chiaramente ve li daremo nel corso delle prossime edizioni di Spazio Notizia. E chiudiamo con il calcio, tornando sulla vittoria della Palermo, vittoria con promozione in Serie B, ieri fra il mister Baldini il giorno dopo il grande successo, ha parlato in conferenza stampa, ha elogiato il presidente Mirri e poi ha detto continuerò a vivermi questa gioia per i prossimi giorni, ma sono convinto che se lavoriamo in un certo modo questa storia non è finita. Lo metto per iscritto, se non è il prossimo campionato, quello dopo ancora andremo in Serie A. Quindi Baldini guarda al futuro con grande fiducia e ottimismo, convinto di poter aprire un ciclo. Ieri erano anche in programma i festeggiamenti nella città di Palermo, si parlava di un autobus scoperto per le vie della città, purtroppo questo è stato impedito a causa della concomitanza con lo spoglio elettorale, chissà se i festeggiamenti non possano svolgersi oggi o eventualmente nei prossimi giorni, chiaramente se questo accadrà ve lo daremo, vi aggiorneremo anche su questa situazione. Intanto ci fermiamo, non ci sono aggiornamenti, ma ci ritroviamo più tardi sempre su Sicilia 24. Vi aspettiamo. Grazie a tutti.